Ciao a tutti appassionati del fai da te, io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video il premio fedeltà per i primi mille iscritti al canale e la presentazione della prima collaborazione del canale. Inizio subito a presentarvi l'azienda che collabora con il canale per questo video, ossia Banggood. L'azienda è molto conosciuta, sicuramente è una delle più nominate su YouTube. Io stesso, prima di ricevere la proposta di collaborazione, mi servivo della loro piattaforma d'acquisto per comprare gli attrezzi di cui avevo bisogno. Si può acquistare comodamente dal telefonino tramite l'applicazione e devo dire che sono molto forniti. Il loro catalogo ha una vastissima scelta di materiale utile a noi appassionati del fai da te. Trovate il link del sito in descrizione, dateci un'occhiata. Per questa collaborazione ho ricevuto tre oggetti e vorrei parlarvene brevemente. Seguitemi perché è importante. Il primo oggetto è un morsetto per tubi da mezzo pollice. Non serve che vi spieghi l'utilità dei morsetti in un laboratorio per il fai da te. Ho fatto un video di recente nel quale riordinavo i miei numerosi morsetti, ma non sono sufficienti. Infatti mi mancano alcuni di questo tipo. La vera caratteristica interessante di questo oggetto è il fatto che possiamo scegliere la lunghezza del tubo da mezzo pollice da installarci. E di conseguenza possiamo scegliere la grandezza del morsetto che ne risulterà. E siccome che per fare un grande progetto serve un grande morsetto, questo sicuramente è un attrezzo che non deve mancare nel lab. Trovate il link di questo oggetto in descrizione. Secondo oggetto preso è una squadra da falegname. Anche qui si parla di un oggetto basilare per il nostro hobby. Una cosa necessaria. Questo in particolare, oltre alla bolla per trovare la posizione orizzontale e la scala millimetrata su due lati, ha come particolarità il fatto che è scorrevole. Grazie a questo fermo, infatti, si rilascia lo scorrimento della battuta, che può essere fissata a piacimento. Questa squadra è dotata ovviamente anche della predisposizione per il segno a 45 gradi. Anche per questo oggetto trovate in descrizione il link per vederlo su Banggood. Ultimo ma non ultimo, un kit di frese Faustner. Anche qui, appena raggiunto un assortimento dignitoso di punte da trapano, lo sguardo per il maker si volge immediatamente a questi inserti per il trapano utili per la foratura circolare del legno. Questo kit in particolare ha codoli da 7 mm, innestabili quindi sulla stragrande maggioranza dei nostri avvitatori e trapani a colonna, e ci permettono di forare da 15 a 30 mm. C'è un po' da sistemare il filo, ma sembrano piuttosto robusti. Anche per questo articolo trovate il link in descrizione. Come vi ho detto nell'ultimo video, abbiamo già raggiunto i 1000 iscritti da un po'. A proposito, se non l'hai già fatto, ti puoi iscrivere al canale. Ad ogni modo, avevo promesso che al raggiungimento di questo obiettivo avrei fatto un nuovo premio fedeltà, e quindi eccoci qua. Infatti, questi oggetti non sono ancora tutti miei. Voglio regalarne uno a voi follower. Ma come si fa a vincere? Semplicissimo, te lo spiego. Come primo requisito devi essere iscritto al canale. Come seconda cosa, devi commentare il video, e devi inserire all'interno del commento l'oggetto che vuoi ricevere come regalo, insieme a un suggerimento per un progetto per la riorganizzazione del mio laboratorio. Terza cosa, ma non è obbligatoria, potete mettere un like al video, e magari potete dare un'occhiata a Banggood passando per il link che trovate in descrizione. Vi ricordo anche che per chi vuole c'è la possibilità di supportare il canale. Infatti, potete offrirmi un caffè su Paypal, oppure se dovete fare degli acquisti su Amazon, potete farlo passando per il mio link. In questo modo, la cifra che spendete è esattamente la stessa, però il canale riceve una piccola provvigione grazie al vostro gesto. Trovate tutte le istruzioni giù in descrizione. E per chi non vince? Beh ragazzi, a essere sincero, il regalo lo faccio a tutti i miei follower, o meglio, a tutti i follower che hanno avuto la pazienza di vedere il video fino a questo minuto. Infatti ho ottenuto un coupon, si tratta di un codice, che vi dà diritto al 10% di sconto su tutti gli acquisti che fate su Banggood. Quindi, buona spesa, e dite pure che vi manda zio orso. Entro fine mese ci sarà l'estrazione, quindi al prossimo video e ciao! Grazie a tutti!